Un saluto a tutti e un bentornati o benvenuti sul tubo di French 11 ancora con la carriera con la Juventus stavo per dire no, ma è il Palermo contro il Siena, ancora uno scontro in testa classifica, Siena settimo, Palermo invece che appunto come vedete è sceso in seconda posizione dopo la sconfitta dello scorso episodio contro l'Empoli, prima partita casalinga del nuovo allenatore, quindi noi, quindi dopo un bel esordio 2-0 contro il Castellamare di Stabbia e la sconfitta per una 0 rimediata contro l'Empoli, siamo oggi contro il Siena che ovviamente non vorrà assolutamente mollare la presa, cambio tattico in attacco, abbiamo inserito l'AFRT invece di un altro, non mi ricordo ancora i nomi, anche perché il Palermo io non lo seguo neanche nella realtà, quindi non so effettivamente i nomi e non so neanche se nella realtà questi giocatori fanno parte del Palermo oppure no, quindi non posso in questo momento esservi d'aiuto, cross, ue dai, niente da fare, vista, visuale molto dall'alto questa, dello stadio di Palermo, attenzione qui al Siena che si propone in avanti, che secondo, la terza partita, che cavolo dici? No, peccato, poteva essere bello questo inserimento, bello l'inserimento, no, peccato al difensore che si è messo davanti, e ha fermato la nostra corsa, recupero, cross, dentro, calcio d'angolo, pesante il Palermo, che cerca in tutti i modi di venirne a capo, ma per il momento è 0-0 ancora, fuori, fuori, peccato, se non sbaglio era Di Gennaro, è andato a segno nella prima partita contro il Castellammare, mentre Hernandez, uno dei capocannoniere della società, anche lui è andato a segno appunto contro il Castellammare di Stabio, questo è fallo però arbitro, eh, faro laterale, per il Palermo, subito dentro, cross al centro, di nuovo nessuno a prenderla, a raccogliere, e di nuovo il Siena che avanza, ma poca vita, poca, riesce a fare pochissima strada, bello questo inserimento sulla fascia opposta, prova la botta, non va, parlate qui, vediamo un po', eh, di poco, di poco, 0-0 però, il Siena resiste, anche qui, anche in questo incontro, Siena che praticamente non ha ancora visto la porta, ma siamo sicuri che al primo, al primo affondo, ci farà neri, perché è sempre così, dai su, su, di Gennaro, cross al centro, ancora Hernández, niente da fare, recupera il Palermo, la dà al centro, in profondità, bello, no, peccato, e poi di nuovo fuori, incredibile, sempre 0-0, però Palermo più volte vicino al gol, e questo fa ben sperare, insomma, per anche il secondo tempo, qui nuovo attaccante, abbiamo visto poco per adesso, in realtà, ecco, 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 incredibile, non è possibile, 1-0 per il Siena, di nuovo allo scadere del primo tempo, cioè, veramente, è la maledizione della fine del primo tempo, niente da fare, fado laterale, no, no, ma porca, eh, l'autore del gol, prova ad andare via, uh, e si libera bene del difensore, finisce il primo tempo, di nuovo il Palermo sotto, 1-0 contro il Siena, porca miseria, bisogna di nuovo recuperare, di nuovo sotto, di nuovo a inseguire il Palermo, strategia offensiva, vabbè, predisposta, predefinita, scusate, scusate, per il Palermo, dai, non si smarca nessuno, ci mette mezz'ora, Hernández, niente da fare, troppo forte il passaggio, attenzione qui, al Siena, di nuovo in avanti, se è fuori gioco, eh, è 7 metri di fuori gioco, mannaggia la miseria, ma perché? No, non ci credo, poteva essere il gol del pareggio, invece niente da fare, tanto c'è un giocatore del Siena a terra, si tratta di non so chi, ma credo che voglio provare a restare in campo, se darci qualche... Oh, troppo lungo, peccato, era Carlos Matthew, in... a terra, che però ha deciso di continuare, ecco, certo, sembra giusto, no? Uh, bello questo, no, ma non era fuori gioco, l'Afferti, il nuovo ingresso, il nuovo attaccante, Uh, attenzione a questa palla, insidiosa! Ma perché? steccavolate, steccavolate, respinge, Sorrentino, butta via, eh, sì, qua, Hernandez sbaglia tutto, può cercare di recuperare, ma si mette davanti il difensore, che lo blocca, passaggio addirittura indietro, eh, vabbò, niente da fare, attenzione, qui, e il Siena, e la palla è ora degli avversari, ancora in avanti il Siena, entra pulito sulla palla, si muove, Di Gennaro, uh, si libera un varco, non c'è nessuno in mezzo però, eccolo, Hernandez, no, ma che tiro di sega, sostituzione, vediamo un po', Porca miseria, niente da fare, Barreto, stanchissimo, chi mettiamo? Barreto è centrale, Bacinovic, e poi Stevanovic a destra, e mettiamo Morganella, via, si va, settantasettesimo, 1-0, il Siena, sta castigando, per il momento, il Palermo, è ancora il Siena qui, che si proietta in avanti, interviene il difensore, del Palermo, ecco, non manca molto alla fine, entrambe le squadre possono ancora sperare nella vittoria, recupera palla con questo intervento, 5 minuti a termine, un gol di vantaggio, non è ancora finita, attenzione qui, bello questo pallone, prova addirittura a tirare, ma ovviamente non riesce, perché, era completamente fuori, cross in mezzo, poi la botta, e la respinta dei difensori, calcio d'angolo, ultima azione probabilmente, 88esimo, Morganella va al cross, no, di testa respinge il portiere, anzi un difensore, scusatemi, ma prova col tacco, niente da fare, prova a darla in profondità, si accentra, cross in mezzo, respinto, di nuovo cross al centro, un palo, non ci credo, e il terzo palo in tre partite, ma porca miseria, 1-0 per il Siena, niente da dire, poco da dire, Siena un tiro un gol, Empoli un tiro un gol, e niente, noi con questa, seconda sconfitta, ci diamo appuntamento, al prossimo video, sperando, in una ripresa di stagione, perché sennò qui le cose, si mettono male, anche con il Palermo, io comunque vi saluto tutti, e do a tutti appuntamento, ovviamente, al prossimo video, ciao! Grazie a tutti!